Nuova operazione di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti effettuata dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Licata hanno arrestato Vito Licata, 34 anni, residente a Campobello di Licata, ritenuto responsabile del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti del tipo marihuana. L'operazione della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Licata e della sezione antidroga della squadra mobile di Agrigento si è sviluppata in contrada Milici nel territorio di Campobello. I poliziotti hanno fatto irruzione in un terreno di cui è proprietario un'altra persona nel quale esisteva una piccola serra dove c'erano coltivate numerose piante di marihuana. La conseguente perquisizione delle squadre dirette da Giovanni Minardi e da Marco Alletto ha permesso di trovare e sequestrare circa 15 grammi di marihuana già essiccata e sei piante dello stesso stupefacente aventi un peso complessivo di oltre 20 kg. Le risultanze investigative sono state trasmesse al sostituto Carlo V della Procura della Repubblica di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio. Dopo le formalità, Vito Licata è stato trasferito presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta del terzo sequestro di piante di marihuana effettuato in pochi giorni dalla polizia di Agrigento. I poliziotti hanno sequestrato in totale quasi 3.300 kg di marihuana.